Era uscito di casa per andare a fare la spesa munito di carrellino sporta ma attraversando la strada di Piumo Mattino, erano le 7 circa, una moto lo ha colpito in pieno lasciandolo a terra privo di vita. Un anziano pedone è morto questa mattina in seguito all'impatto con uno scooter Peugeot. Lo scontro è avvenuto in circonvallazione a Catania all'altezza del Tondo Gioeni. Secondo la ricostruzione dei vigili urbani la dinamica dell'incidente è molto chiara. L'uomo 87 anni attraversava la strada camminando sulle strisce pedonali quando un motociclo guidato da un uomo di 47 anni lo ha centrato sbalzandolo per diversi metri in là. Ferite di lieventità per il motociclista che è stato trasportato al pronto soccorso è già dimesso. La salma è stata riconsegnata ai parenti. L'uomo nonostante l'età viveva solo e non era sposato. Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo per accertare le responsabilità. L'incidente di questa mattina ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico automobilistico con notevoli ralentamenti e lunghe code.